Quindi andiamo a svitare lo smalto, puliamo bene e andiamo ad inserirlo qui. Dopodiché, utilizzando uno stuzzicadenti, andiamo a creare una miscela omogenea e cerchiamo di portarlo su tutto insieme. Ora tra poco vi farò vedere lo slime riuscito. Slime. Ora cercherò di farlo vedere un po' meglio. È fantastico, lo vedete? Eccolo qui. Dovete pulirlo bene tutto dall'olio e poi potete anche giocarci. Spero che questo video slime vi sia piaciuto, vi mando un bacione, iscrivetevi al canale e e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!